Benvenuti in un nuovo video, sono particolarmente felice oggi perché vi faccio l'unboxing progist, ovviamente questa volta ho acquistato io sapete che mi piace anche supportare, ma chi mi conosce lo sa perché sono 4 anni che sono su Youtube e il 95% dei miei video sono sempre stati tutti finanziati dalla sottoscritta quindi oggi siamo qui per unboxare, non vedo l'ora, sono arrivati due pacchi perché ho preso anche delle altre cose ma di questo piccolo lo vedremo alla fine perché qui davanti a me ho una scatola immensa, rifrigerata con fuori ovviamente il puristerolo speriamo bene, io ho fatto l'ordine ovviamente per le spedizioni refrigerate, qualche tempo in più lo impiega io ho fatto l'ordine che era giovedì sera, ovviamente venerdì non l'hanno spedito perché poi sarebbe stato anche utile perché il sabato e la domenica correre non consegnerò, comunque oggi che è mercoledì mi è anche arrivato apriamo? ma l'ordine come è bella vabbè ci fa vedere sì e l'ordine stava pure cascando ok ho preso i gelati mamma mia che freddo scusatemi ma sono troppo contenta mamma mia che freddo mamma paracelle papà no vabbè raga wow c'è io levo da qui ma ho un freddo che esce allora cosa vorrei fare? wow ma se sei una scana in mano ho preso i gelati della Lears sapete che Prozzi ha tantissimi tantissimi gelati questo gusto cookies ovviamente poi ve li farò vedere nel dettaglio e nel video recensione ma sono ovviamente ma c'è anche il ghiaccio sopra quindi sono un po' così io lo rimetto dentro me ne ho mai visto tutto questo ghiaccio in tutta la mia vita sono troppo contenta poi ho preso ho preso gusto burro ed arachidi e cioccolato alzenut allora aspettate burro ed arachidi e cioccolato nocciola crema alla nocciola per intenderci sopra ci sono tutti i pezzi poi guardate qui sono tutti i pezzi strawberry cheesecake vi dico già che il video assaggio ce ne saranno due o tre lo farò insieme a mia sorella perché io conosco un po' i gusti sono più abituata diciamo agli alimenti proteici lei no quindi secondo me una doppia recensione ci sta poi questo qui secondo me è salted caramel crunchy mamma mia adesso è un po' tutto appannatino col ghiaccio sopra però poi ve le faccio vedere nel dettaglio questo invece oddio non c'è scritto gusto mocaccino ok questo è il mocaccino poi madò questo mi ispira un paio tanto so belli le dà 250 ml però in realtà sono 185 grammi poi quest'altro qui aspettate non si legge cioccolato bianco e cocco cioccolato bianco e cocco e poi l'ultimo busto tiramisu cioè ragazzi ora ci sono tutti i pezzi quindi mi raccomando non perdetevi non perdetevi il video recensione mi raccomando ci tengo veramente tanto 1,2,3,4,5,6,7,8 wow 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 ragazzi io veramente soddisfatta sì mi aspettavo sono sincera mi aspettavo il classico ghiaccio invece no wow complimenti complimenti e considerate anche che io visto che ho superato i 30 euro io non ho pagato neanche la spedizione in rifrigerata cioè wow comunque apriamo l'altro pacchettino no io devo mandare il video ad Antonella aspettate perché Antonella non sta qui troppo soddisfatta mi si sono andata molto veloce che mi sento tipo cotta le mani non riuscivo a prendere perché qui nella stanza fa caldissimo il gelato fuori era completamente ricoperto di ghiaccio ovviamente poi nei video andrò nel dettaglio uh un mebellillo allora ciambellina zero zuccheri quindi un donanz gusto cioccolato ovviamente qui i valori e tutto li vedremo in qualche video vlog lo assaggiamo lo assaggiamo poi ho preso un brownie questi io li metto in frigo come devo fare perché sono belli morbidi ditemi quello che devo fare crunchy peanut butter wow ah oh come sono belli il vaniglia waffle adoro ma poi lo sapete che a colazione non ho mai voglia uh questi un po' riscaldati sono piccolini me li aspettavo più grandi ma ci sta ok raga questo è stato tutto il mio shopping da proazis ovviamente io mi sono concentrata di più sui gelati perché ovviamente siamo in istante fatemi sapere ci tengo veramente tanto ovviamente vedrò anche i riscontri per quanto riguarda i video che usciranno dei gelati non vedo veramente l'ora così se voi mi darete l'ok in base anche all'andamento io procederò ad acquistare anche l'altra linea perché comunque ci sono tantissime tantissime linee e quindi io spero che questo video vi sia piaciuto scusatemi ma quando veramente un'azienda ci mette il cuore io sono felicissima cioè vedere una scatola così wow wow veramente e quindi non la io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao